Gian Paolo Medei, una battaglia vinta dalla Lube, un tie-break che ha fatto stare tutti col fiato sospeso, ma anche un primo set vinto in rimonta dalla Lube, un grandissimo cuore da parte della tua squadra. Senza dubbio, credo che il pubblico che ha pagato il biglietto oggi ha speso bene proprio denaro, perché credo che sia stata una partita di altissimo livello, credo che a tratti entrambe le squadre hanno avuto dei cali, ma questo è normale a questo punto della stagione, quando la posta in palio è così alta, è difficile giocare in scioltezza. Però credo che le due squadre stasera si sono espressi a altissimi livelli, per quanto riguarda la mia squadra, in questo momento noi sicuramente non siamo perfetti, sia dal punto di vista fisico che tecnico, credo che abbiamo imparato a stare in campo anche in questa condizione, questa è la cosa più importante perché c'è stanchezza, ci sono alcuni problemi con cui dobbiamo imparare a convivere, però la prestazione dal punto di vista sia agonistico ma anche tecnico della mia squadra è stata molto positiva, sono molto contento di questa vittoria perché è una vittoria di carattere, di applicazione e di squadra. 2-1 nella serie con Modena, ora si va in archivio per quanto riguarda la semifinale Scudetto, c'è la Final Six di Champions. Sì, ci buttiamo con la testa a Trento, una partita molto difficile e anche molto importante per noi, sappiamo che Modena avrà tempo di preparare gara 4 con calma, avrà più tempo di noi, però anche stasera noi venivamo da un'altra partita di Champions dura da tutti i punti di vista, abbiamo tutta la stagione dimostrato che siamo in grado di scendere in campo ogni 3 o 4 giorni e comunque fornire prestazioni di alto livello, quindi sono fiducioso sia per Trento che poi per gara 4 a Modena.